Buona Chico, subito Giacomo, quello che vedi è più facile, più facile, semplicità ragazzi, semplicità, non dobbiamo fare chissà che. Mazzamento e il passaggio facile, va bene dai, subito, appena prendi la palla già di saper a chi, eh buon alcino, dai, dai, vai fino all'area, fino all'area, fino all'area, fino all'area, fino all'area, fino all'area, dai tu, 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 tu. Vieni, faccia a me, faccia a me, amici. Non lo faccia da me, no? No, mi vede. No, dai, voglio. Lui è in centro, subito un po' di mobilità.